Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, oggi come promesso vi faccio uno sfoglio del nuovo album di Brochet, album 8. Allora, non fate caso a questi post-it che ho messo, perché è un album che avevo già inserito nel sacchettino da consegnare a una cliente, però oggi non ho fatto in tempo a consegnarlo, quindi ho approfittato per farvi lo sfoglio con questo album. All'interno ci saranno anche dei campioncini, però insomma non fateci caso, ecco. Allora, questo album come si può vedere dalla copertina, la novità principale sono queste nuove linee per i capelli, appunto di shampoo e trattamento della nuova linea lisci e ricci, perché fino all'album precedente non c'era questa linea, quindi l'hanno rinnovata, riformulata e adesso andiamo a vedere le offerte che ci sono. Allora, come vedete qui, nella prima pagina appunto vi parla di questa novità appunto, questa è la linea per i ricci, questa di qua è quella per i capelli lisci e poi ci sono tante altre promozioni che adesso vediamo insieme. Allora, la prima promozione come vedete parla proprio di questa novità per capelli lisci, abbiamo lo shampoo e il fluido lisciante, questo qui, che praticamente ancora non mi hanno ordinato, quindi non ho avuto modo di farvelo vedere negli spacchettamenti, però spero di potervelo far vedere dal vivo, insomma, e di qua appunto per lanciare questa nuova linea hanno pensato di creare un set a 9,95€, dove possiamo avere appunto questi due prodotti a questo prezzo. abbiamo lo shampoo e il fluido lisciante appunto a 9,95€ se si acquista il set, quindi un'ottima offerta per lanciare appunto questa nuova linea. La stessa cosa hanno fatto per la linea ricci, qui abbiamo anche il balsamo, shampoo, balsamo e crema modellante per i ricci appunto, e anche qui hanno creato il set, però questa volta hanno fatto shampoo e crema modellante, anche questo set costa 9,95€ ed è possibile acquistarlo appunto come set, in questo modo, oppure singolarmente nella pagina di qua, lo potete acquistare anche singolarmente. Poi, andando avanti, abbiamo un'altra fantastica promozione in questo album, che è Mix & Match, potete leggerlo qua su. Allora, se voi acquistate uno shampoo e una maschera per capelli, che dopo vedremo, andrete a pagare 9,95€ tutti e due i prodotti, quindi uno shampoo a scelta più una maschera a scelta vi costeranno 9,95€. E queste sono tutte le scelte che, insomma, potete, vi ho detto che c'erano campioncini, non fateci caso, che voi potete appunto acquistare, scegliere e acquistare, anche questi qui ne fanno parte. E qui appunto, come vi dicevo prima, ci sono le maschere, che adesso vedremo, questo qui è quello volume, di qua ci sono quelle antiforfora e anticaduta, e poi qui appunto ci sono le maschere, vedete? Le maschere per i capelli, che potete acquistare insieme allo shampoo a questo prezzo, quindi ottima offerta anche questa. Oppure potete fare un altro abbinamento, questi sono sempre un altro abbinamento appunto, che riguarda i trattamenti. Potete acquistare uno shampoo sempre, tra quelli che vi ho fatto vedere prima, che sono questi qua, e un trattamento, che sono questi, a 11,95€. Potete mixare come meglio preferite, non è detto che dovete prendere tutti e due prodotti della stessa linea, potete fare anche due linee diverse. Qui abbiamo lo spray per il volume, gli aceti da risciacquo, e poi di qua abbiamo tutti i balsami e le fiale anticaduta, che sono queste qui. Andando avanti, troviamo un'altra promozione, perché anche questi sono stati appunto rinnovati, degli smalti, quindi abbiamo gli nuovi smalti Go Green, vedete qua su, novità smalti, e questi qua sono tutti i colori degli smalti appunto, questi qui sono quelli nude, questi sono quelli rossi, e poi dopo vi farò vedere anche le altre tonalità, ma la cosa principale, voglio farvi vedere, è questa, che se ne possono acquistare due, a 6,95€, quindi se acquistate due smalti di colori uguali o diversi, come preferite, li potete acquistare a 6,95€, anziché pagarne uno, 4,95€, che mi sembra un'ottima offerta. E questi sono gli altri colori, diciamo, degli smalti, qui ci sono i blu e verdi, e di qua ci sono i malva, i colori malva, quindi potete fare anche qui gli abbinamenti che più vi piacciono. Andiamo avanti, qui non ci sono grandissime promozioni, quindi vado spedita. Questi sono i nostri ombretti in crema, a lunga tenuta, il pennello, questo qua su è il primer per l'ombretto, e di qua ci sono le matite, qui abbiamo tutta la linea make-up, che però non ha promozioni. Questi sono i nostri mascara, di qua appunto continuano sempre i mascara, con anche la matita, l'eyeliner vertige, non è la matita in eyeliner. Di qua ci sono sempre le matite con i correttori, e il mascara per le sopracciglia. Qui abbiamo sempre correttori, questo qui è quello nuovo, che ora costa 12,95€, perché è a prezzo pieno, quindi costa così. Di qua iniziano i nostri fondotinta, anche qui ci si vede qualche campioncino, ma non fateci caso appunto. Questo qui è quello Zero Default Comfort in barattolo, questo qui invece è in tubetto. Poi andando avanti, abbiamo sempre fondotinta, con la Beauty Blender, e il pennello, qua su. Di qua abbiamo questo, che è quello, pelle perfetta 10 ore, con la protezione solare. Di qua iniziano poi, qui ci sono sempre fondotinta, qua iniziano i fard, le terre, eccetera, gli stick illuminanti, la terra, e i nostri rossetti, che sono a 9,95€, su questo album, le potete trovare, quindi anche questo è un ottimo sconto, diciamo. sempre rossetti, questi qua giù sono i matitoni, vedete, tutti questi colori qui. Qui ci sono invece i gloss, quindi con tutti i relativi colori. Poi abbiamo, andando avanti, qui iniziano invece le linee viso, vedete, viso specifico, quindi abbiamo anche qui, delle promozioni, qui abbiamo la Sebo Vegetal, vedete quella verde, abbiamo il gel detergente, credo che sia, sì, il gel detergente più la crema, gel crema a zero difetti, la possiamo acquistare, questo set, a 11,95€. e qui abbiamo invece tutta la linea Sebo Vegetal, vedete, con tutti i vari trattamenti, le acque micellari, le maschere, eccetera, la polvere esfoliante. Andando avanti, un'altra promozione riguarda la Sebo Pure Vegetal, qui ci sono tutti i trattamenti, anche di questa linea, e qui c'è la promozione con il gel detergente 3 in 1, e l'SOS antiimperfezioni, il trattamento antiimperfezioni, e questo set costa 12,95€, come potete vedere da qui. Poi, andando avanti ancora, abbiamo tutta la linea Idra Vegetal, qui ce ne sono due di promozioni, perché come sapete, se siete dell'azienda, abbiamo la crema ricca di idratazione 48 ore, insieme al gel detergente, di qua invece abbiamo sempre il gel detergente, però abbiamo la crema quella in gel, appunto il gel crema, idratazione normale, quindi non quella ricca, quella normale. Qui, appunto, continua la linea Idra Vegetal, con tutti i vari trattamenti, qui abbiamo anche la nostra amatissima linea per pelli sensibili, questa qui è quella alla camomilla, qui abbiamo il gel detergente, anche qui la crema detergente, più la crema lenitiva, a 14,95€, questa è per le pelli reattive, mentre di qua abbiamo quello per pelle secca, abbiamo la crema detergente, sempre più il balsamo comfort, che è questo barattolino qui, questo costa 14,95€, anche questo, quindi ottimo, ottima offerta. Qui poi abbiamo sempre le solite cose, abbiamo l'acqua micellare, la crema verde correttrice, e questi qua giù sono i vecchi prodotti, quelli alla camomilla, la crema misecorpo, il gel detergente, e il detergente più tonico. Di qua ci sono i nostri struccanti, quelli bifasici e non, qui abbiamo la BB cream, con le maschere viso, anche queste riformulate, però queste non sono in promozione, quindi ando avanti. Qui iniziano il trattamento di viso anti-età, anche qui non ci sono particolari promozioni, questa è l'anti-age global, qui abbiamo sempre l'anti-age global continua. Poi andando avanti abbiamo la Elixir Jeunesse, tutta la linea Elixir Jeunesse, che è questa qui, non so se si vede bene. Andando avanti troviamo la Serum Vegetal, quella rossa, la Lifting Vegetal, che è questa, quella nuova, poi troviamo la Rich Cream, eccola qua, con tutti i vari trattamenti, e qui ci sono le varie, appunto, trattamenti delle varie linee, Serum Vegetal, Elixir Jeunesse, e basta. Poi abbiamo i trattamenti corpo, anche qui non ci sono particolari promozioni, quindi non mi dilungo, qui abbiamo le nostre mousse, quella anti-ricrescita, e quella per le gambe, le gambe leggere, qui abbiamo i nostri trattamenti corpo, quelli con sueti, con lo scrub all'albicocca, e qua su le relative creme corpo, di qua lo stesso abbiamo quelle al karité per pelli secche, qui abbiamo tutta la linea lifting, diciamo, rassuranti e anticellulite, poi troviamo di qua la linea quella per pelli sensibili, adatta anche ai bambini, con il bagno schiuma, il latte lenitivo, e la crema doccia, senza schiuma. Qui abbiamo le creme mani, queste qui, tutte con l'olio esfoliante anche, e di qua abbiamo la nostra amatissima linea per i piedi, con il gel esfoliante anche qui, quindi questa qui, poi abbiamo i nostri dimagranti, i nostri complementi alimentari, con le pastiglie per il peso, e i nostri defiligne, qui iniziano i profumi, che sono sempre gli stessi, ci sono questi qui, e questi, Evidence, non Evidence da donna, e questi qui per uomo, con appunto anche qui la linea per la barba, qua giù in fondo, qui inizia, per quanto riguarda l'igiene, qui ci sono i saponi per le mani, questi qui, qui abbiamo tutte le varie, la linea Pleasure Nature, con la crema mani, la saponetta, le acque profumate, il bagno doccia, latte corpo, e tutte le linee in questo modo, quindi, questa è al mango, questa è alla vaniglia, vedete, questa qui è all'oliva, questa di qua è invece alla mandorla, qua giù abbiamo quella all'argan, questa è quella alla mora, questa qui, questa è quella al lampone, buonissima questa, e qui abbiamo, diciamo, i bagno schiuma, che non hanno abbinamenti, con altre cose, diciamo, qua su ci sono i nostri deodoranti, questi qui sono i nuovi gel doccia concentrati, che erano in promozione nell'album precedente, e qua giù abbiamo i nostri balsamo labbra, sempre, ci sono sempre in ogni catalogo, quindi, buonissimo, e qui inizia un'altra promozione, queste qui sono le vitamine per il sole, che in questo album sono appunto in offerta, quindi due scatole di queste pastiglie, le potete avere a 19,95€, mentre a prezzo pie, singolarmente una costa 14,95€, quindi a M2 a 19,95€, è un'ottima promozione, qui inizia un'altra fantastica promozione, riguardo i solari, con l'acquisto di tre prodotti solari, lo potete leggere qua su, avete il telo mare a 1€, quindi buonissima anche questa come promozione, e qui infatti abbiamo tutta la linea solari, poi lo potete leggere in ogni pagina, c'è scritto, quindi potete benissimo sfogliarlo, qui abbiamo appunto tutti i solari, compreso il doposole, che è questo qui, e qui inizia un'altra, un'altra, l'ultima promozione di questo catalogo, che è questa qui, riguardante la linea Monoi, con l'acquisto di due prodotti Monoi, potete avere in regalo, il doccia shampoo delicato al Monoi, appunto, che se acquistato, costerebbe 4,95€, quindi anche questa, ottima promozione, vedete, in regalo shampoo doccia, con l'acquisto di due prodotti Monoi, appunto, e questo era l'album, niente ragazzi, io per quanto mi riguarda, ho terminato, vi ricordo che, se volete anche voi, entrare a far parte di questo mondo, potete scrivermelo nei commenti, e vi dirò come fare, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, commentate, e se questo video vi è piaciuto, mettete un like, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!